Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! C'è un po' di più! C'è un po' di più! C'è un po' di più! Grazie a tutti. Grazie a tutti.